Gela, direzione investigativa antimafia, contisca beni e quote societarie per 4 milioni di euro ad un commercialista. Droga, 7 misure cautelari, provvedimenti firmati dal GIP del Tribunale di Agrigento, Stefano Zamuto. Favara, denunciato una trentenne accusata di aver ferito la madre, intervento dei carabinieri che hanno sequestrato un coltello. Furto in un negozio d'abbigliamento a Canicatì, indagano i carabinieri. Consiglio comunale, polemica sulla mozione lotta alla droga, parla Oscar Aiello della Lega, replica Marina Mancuso del Movimento 5 Stelle. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando di Cronaca, Gela, direzione investigativa antimafia, confisca beni e quote societarie per 4 milioni di euro a un commercialista. Sentiamo. Un noto commercialista e consulente fiscale di Gela è finito nel mirino della direzione investigativa antimafia. Gli inquirenti, infatti, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca definitiva emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, su proposta della Procura della Repubblica di Gela. Il professionista è risultato gravato da pendenti penali per gravi illeciti fiscali commessi in passato. Nel 2010, di fatto, il commercialista è stato condannato a due anni e un mese di reclusione, nell'ambito di un'indagine della Procura di Brescia, per associazione a delinquere, truffe ai danni dello Stato e indebite e compensazioni tributarie. L'odierno provvedimento è il risultato di una meticolosa attività investigativa della DIA risalente al 2009, che ha consentito di riscontrare la pericolosità sociale del soggetto, profilo riscontrato anche dalle indagini patrimoniali che avrebbero fatto emergere la sproporzione fra il suo elevato tenore di vita, i redditi dichiarati e i conseguenti investimenti fatti. La confisca, il cui valore complessivo supererebbe i 4 milioni di euro, ha interessato una lussuosa struttura agrovenatoria a Piazza Armerina, costituita da una riserva di caccia di 30 ettari, un salone e ristorante e 7 residenze frutto del restauro di caseggiati dell'Ottocento, 74 beni immobili, fra cui fabbricate e terreni, quote societari in due società di gela, autoveicoli e rapporti bancari. E ancora cronaca, droga, 7 misure cautelari eseguite dai carabinieri, provvedimenti firmati dal GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zamuto. I carabinieri stanno eseguendo 7 misure cautelari nei confronti di altrettante persone che avrebbero spacciato stupefacenti all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zamuto, su richiesta del procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella. Per due indagati, un quarantenne e un cinquantenne originari di Agrigento, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Per altri due, un ventiquattrenne originario di Agrigento e un quarantasettenne di Palermo, è stato disposto l'obbligo di dimora ad Agrigento. Per altri due indagati, invece, un quarantenne di Favara e un altro originario della Germania, è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Agrigento. E infine, per un sessantenne di Favara, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine è stata avviata nel novembre del 2020, dopo diverse segnalazioni, tra cui quella di una donna, ospite della struttura, che aveva denunciato, secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Agrigento, di aver subito minacce e violenze sessuali reiterate, come corrispettivo nella compravendita della sostanza stupefacente. Grazie alle intercettazioni telefoniche e alle riprese video, è stato possibile riscontrare quello che gli inquirenti hanno definito una struttura piazza di spaccio. Ci spostiamo adesso a Favara, denunciata a una trentenne accusata di aver ferito la madre, intervento dei carabinieri che hanno sequestrato un coltello. Una giovane di 32 anni di Canicattì è stata denunciata alla Procura della Repubblica per lesioni personali e minaccia aggravata. A procedere, dopo una breve attività di indagine, sono stati i carabinieri della Compagnia del Comune in provincia di Agrigento. La ragazza avrebbe minacciato, aggredito e sferrato una coltellata alla madre. La donna ferita, una 53enne, è finita al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo, dove i sanitari le hanno diagnosticato una ferita lacero contusa alla mano destra, escoriazioni sparse, un tramo al ginocchio destro e l'avulsione parziale di un dente. Alla donna, inoltre, sono stati dati 15 giorni, salvo complicazioni, per guarire. Anche la figlia è finita in ospedale, dove le sono state riscontrate escoriazioni sulla schiena e ad un braccio. Tre, invece, i giorni di prognosi che gli sono stati dati dai medici. I militari dell'arma sono riusciti, infine, a recuperare e sequestrare il coltello da cucina con lama da 24 centimetri, con cui la giovane avrebbe colpito la madre. Furto in un negozio d'abbigliamento a Canicattì. Indagano i carabinieri i dettagli nel servizio. Un gruppo di ladri ha svaliggiato il negozio d'abbigliamento a Calabro nel centro di Canicattì. L'episodio si è verificato la scorsa notte, quando i malviventi avrebbero sfondato la vetrina del negozio d'abbigliamento nel centro del comune in provincia di Agrigento. Gli uomini si sarebbero intrufolati e nel giro di pochi minuti avrebbero portato via, a bordo di una fieppanda, capi di abbigliamento griffati, generando notevole danno economico. Tempestivamente sarebbe scattato l'allarme, ma i ladri sarebbero riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Mimmo Licata, intanto, nell'apprendere lo spiacevole episodio, ha espresso la piena solidarietà ai titolari e a tutti i dipendenti, denunciando i vari atti di criminalità che stanno sfociando, racconta Licata, in una situazione emergenziale. E cambiamo adesso argomento. Consiglio Comunale, polemica sulla mozione lotta alla droga, parla Oscar Aiello della Lega, replica di Marina Mancuso del Movimento 5 Stelle. Con il Consiglio Comunale di ieri, il capogruppo della Lega, Oscar Aiello, avrebbe presentato una mozione sulla lotta alla droga attraverso l'assegnazione ad un consigliere comunale di maggioranza e un consigliere comunale di opposizione di una specifica delega nella lotta alla droga, con l'incarico di promuovere e coordinare l'azione del Comune sulla materia e sull'istituzione di un osservatorio sul tema. Quello che è successo è davvero imbarazzante. La Lega, con me, primo firmatario, aveva presentato una mozione avendo ad oggetto la lotta alla droga, quindi un tema trasversale che dovrebbe unire la politica anziché dividerla. Invece il Movimento 5 Stelle ha pensato bene di bocciare di fatto la mozione. La mozione aveva ad oggetto soltanto attribuire ad un consigliere di maggioranza e uno d'opposizione, la delega, per promuovere e coordinare tutte quelle attività che potrebbero servire a contrastare la droga coinvolgendo gli specialisti, quindi medici, esperti, quali psicologi e le forze armate. E poi l'altro obiettivo era quello di istituire un osservatorio comunale. Il Movimento 5 Stelle ha votato contrario dividendo il consiglio comunale portando avanti forse la loro ideologia piuttosto che una politica irresponsabile. Io ho definito purtroppo i consiglieri del Movimento 5 Stelle politicamente irresponsabili anche perché la mozione non aveva nessun costo per l'amministrazione comunale che ieri anzi era favorevole. E' Marito Mancuso del Movimento 5 Stelle a spiegare il perché della scelta dell'astensione che ha comportato la bocciatura della mozione. Dice in una nota Costatiamo con amarezza l'indisponibilità del consigliere di opposizione autore della mozione in trattazione al Consiglio Comunale del 18 ottobre di modificare la mozione in termini condivisi e condivisibili all'interno del Consiglio in modo da arrivare ad una approvazione all'unanimità. La mozione, prosegue, vertieva su una materia delicata e di grande attualità la prevenzione e la lotta alla droga. Il Movimento 5 Stelle ha mostrato piena disponibilità ad un confronto chiedendo una sospensione dei lavori a cui il consigliere proponente si è sottratto dimostrando una totale chiusura. Prosegue ancora Riteniamo che i consiglieri non abbiano alcuna competenza per coordinare un'attività svolta dal CERT, dagli organi di polizia, dalla prefettura e dai servizi sociali. Sarebbe stato un istituto poco realizzabile in concreto, sottolinea posto il diverso livello istituzionale dei soggetti di cui si sarebbe voluto assumere il coordinamento In una materia così complessa e delicata si correva il rischio di fare solo del protagonismo Fa bene solo chi sa fare Conclude in questo modo la consigliera Al Palmin Telli, nonostante il divieto, scatta la denuncia, i dettagli nel servizio Un 33enne di Caltanissetta è stato denunciato dalla polizia per essere stato trovato allo stadio fra gli spettatori nonostante fosse sottoposto a DASPO L'uomo era stato raggiunto dalla misura di prevenzione nel gennaio del 2020 con un provvedimento emesso dal questore del comune di Caltanissetta Così il 33enne è stato denunciato dalla Digos alla locale procura della Repubblica per violazione del divieto di accedere nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive L'uomo era stato sottoposto alla misura di prevenzione del DASPO per tre anni e emessa nel gennaio del 2020 dal questore del comune Nisseno Nel corso dell'incontro di calcio Nissa-Mazzarese però, disputato domenica pomeriggio al campo sportivo Palmitelli di Caltanissetta l'uomo, contravvenendo al divieto, è stato notato dagli agenti della polizia di Stato all'interno dello stadio fra gli spettatori Così è scattata tempestivamente la denuncia a suo carico presso la Procura della Repubblica 15 imprese turistiche parteciperanno sotto legida della regione siciliana all'evento fieristico MyStreet Show che si terrà a Venezia dal 16 al 18 novembre 2022 È stato pubblicato l'avviso per la selezione di piccole e medie imprese dell'isola interessate a partecipare all'evento La regione farà da sponsor finanziando le imprese selezionate nell'ambito del piano operativo annuale 2022 dell'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione le piccole e medie imprese che operano in attività di servizi, alloggio e ristorazione Hotel 4 e 5 stelle, servizi di noleggio, servizi di supporto alle imprese, agenzie di viaggi e tour operator Tra gli espositori, marchi di hotel e resort di lusso, agenti di viaggio, gestori di eventi e congressi Le istanze sottoscritte digitalmente dovranno essere trasmesse entro il 24 ottobre 2022 alle 10 tramite PEC al Dipartimento Turismo della Regione Si avvicina la commemorazione dei defunti e dunque parla l'assessore comunale servizi cimiteriali Cettina Andaloro Il giorno di ogni istante si avvicina ed in previsione della maggiore affluenza di persone che andranno al cimitero Angeli per commemorare i loro cari nei giorni a ridosso della festività, oltre al limite del traffico dei veicoli previsto come ogni anno, sarà prolungato anche il servizio del bus navetta Come ogni anno in occasione della commemorazione dei defunti ci sono i tre giorni a cui si limita l'accesso alle macchine però si dà sicuramente il servizio navetta da parte del comune, gratis per gli utenti Quest'anno, visto che i tre giorni, 31, 1 e 2 sono lunedì, martedì e mercoledì ma c'è pure la domenica, che è un giorno festivo molta gente si recherà a trovare i propri cari giusto la domenica e gli altri anni è sempre stato aperto quest'anno il comune per agevolare, per facilitare l'accesso al cimitero ha deciso di limitare l'accesso veicolare alle macchine, naturalmente non ai pedoni però dare in cambio un giorno in più di servizio navetta gratis per gli utenti è un'agevolazione, un benefit che ha deciso di dare il comune alle persone per evitare il traffico che immancabilmente si verrebbe a creare recandosi al cimitero A chi solo pochi giorni fa aveva fatto appello alle istituzioni perché per più volte ha subito il furto di fiori davanti le lapidi dei propri cari l'assessore andaloro risponde La mia personale solidarietà a queste persone a questa persona che ha denunziato ma non è solo questa persona mi vengono riferite tanti altri furti chiamiamoli furti perché è un'indecenza secondo me è una cosa che non dovrebbe succedere per cui dando l'esempio io e dando manifesto la mia personale solidarietà mia e del comune e di tutta l'amministrazione e dei servizi cimiteriali, di tutto il mio ufficio poi vorrei lanciare un'iniziativa che già da tempo ci pensavo e mi ha dato l'input di questa denuncia il fiore è sospeso comincerò io stessa per questi tre giorni a lasciare un mio personale contributo per donare dei fiori a chi non potrebbe comprarli Visita guidata alla riserva naturale orientata su Gereta di Niscemi per gli studenti della classe 1H del liceo 3D dell'Istituto di Istruzione Superiore Sebastiano Mottura di Caltanissetta Gli alunni sono stati accompagnati dai docenti Daniela Salamanca e Orazio Palermo primo collaboratore del dirigente scolastico Laura Zurli La delegazione è stata guidata dall'ispettore Benedetto Lupo del Corpo Forestale della Regione Siciliana l'ispettore Lupo ha descritto agli alunni le piante autoctone con un focus approfondito sugli alberi da sughero più anziani tra i quali viene uno che vanta quasi 500 anni di vita durante la giornata gli studenti hanno scoperto come si stima l'età di un albero e come si estrae da esso il sughero e adesso parliamo della Villa Cembalo l'intervento di Orgoglio Nisseno per sapere quando si realizzerà poi il progetto del centro per donne e bambini in difficoltà è passato un anno dalla donazione della Villa Cembalo da parte della famiglia che con grande generosità ed altruismo si legge in un comunicato di Orgoglio Nisseno donava la sua bella villa di Via Due Fontane alla Croce Rossa Italiana affinché potesse realizzarsi un centro per donne e bambini in difficoltà l'importante organizzazione di volontariato si legge ancora nel ritenere l'iniziativa della famiglia Cembalo lodevole di grande utilità per la città di Caltanissetta si impegnava ad adeguare nel più breve tempo possibile l'immobile alla nuova destinazione sociale e così il movimento politico pone dei quesiti chiediamo a che punto sia nei lavori di adeguamento della Villa Cembalo e quando si prevede possa realizzarsi l'ambizioso progetto del centro per donne e bambini in difficoltà la struttura denominata Villa Cembalo attualmente in fase di adeguamento strutturale e tecnico ci fanno sapere dal Comitato Nisseno della Croce Rossa Italiana i lavori sarebbero necessari dunque per realizzare il centro destinato a donne e bambini in difficoltà e sulle tempistiche, precisano ancora, si stanno prolungando a causa dell'innalzamento dei costi dei materiali la struttura sarà oggetto e concludono di progettualità solidaristica appena conforme alle vigenti normative in materia sabato alle ore 10 nell'aula consigliere di Palazzo del Carmine si terrà la cerimonia di presentazione del nuovo capitano maestro Giuseppe Mangione delle diverse cariche capitanali della Real Maestranza per la settimana santa 2023 prevista la presenza del presidente del civico consesso Giovanni Magri e di tutti i consiglieri secondo la tradizionale turnazione si legge in una nota toccherà per l'anno 2023 aprire la solenne processione della Real Maestranza in programma il 5 aprile 2023 alla categoria degli idraulici stagnini il primo appuntamento per la Real Maestranza per il prossimo anno sarà domenica 26 febbraio prima domenica di quaresima per il passaggio di consegne tra il nuovo e il precedente capitano il 4 marzo verrà celebrato il secondo sabatino di quaresima della Real Maestranza in onore del capitano e dedicata a Maria Santissima della Provvidenza protettrice della Real Maestranza e adesso parliamo di un altro appuntamento della Pasqua a Nissena quello della domenica delle palme dell'impegno dell'associazione Gesù Nazareno dopo 30 anni Giordano lascia la presidenza eletto il nuovo dunque presidente Salvatore Giamusso dopo 30 anni lascia la carica di presidente Luciano Giordano ma rimarrà sempre un punto di riferimento per l'associazione Gesù Nazareno l'assemblea dei soggi infatti riunitasi per il rinnovo del direttivo lo ha nominato presidente onorario al suo posto è stato eletto all'unanimità Salvatore Giamusso il presidente Giordano ha deciso di lasciare l'incarico perché anche lui crede nel ricambio generazionale quindi che pensa che è arrivato il momento appunto di cambiare anche il vertice dell'associazione chiaramente noi avremmo voluto averlo presidente ancora per tanto tempo tanto è vero che l'assemblea lo ha nominato presidente onorario il mio presidente che rimarrà in carica sino al 2027 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per più di dieci anni ma in realtà ha partecipato attivamente ai festeggiamenti della Domenica delle Palme sin da quando era bambino così come lui stesso ci racconta allora io sono da quando ero bambino chiaramente proprio c'è stata poi una pausa poi durante l'adolescenza perché magari come spesso succede agli adolescenti ci si allontana un po' da queste tradizioni e poi sono ritornato effettivo dal 1990 quindi ormai sono più di 30 anni insomma che mi impegno un po' cerco di dare il mio contributo al meglio all'associazione Cisuna Zalena ma c'è sicuramente una tradizione di famiglia mio nonno faceva parte allora non era un'associazione era un comitato c'erano alcune famiglie diciamo di Caltaninsetta che si occupavano della processione Giammusso, Giordano, Miraglia, Cortese quindi sicuramente da bambino diciamo l'avvicinamento è stato tramite appunto la famiglia tramite il nonno poi tramite anche il papà e poi cominci a coltivarlo questa devozione, questo senso diciamo di appartenenza e lo abbiamo portato avanti fino ad oggi Eletti anche i consiglieri Michelangelo Lovetere e Michele Cortese che assume inoltre l'incarico di segretario tesoriere intanto si pensa già ai prossimi appuntamenti C'è una tradizione da confermare cercando nei limiti del possibile di incrementare, aumentare quelle che sono diciamo le attività dell'associazione intanto nell'immediato anche se già siamo in ritardo ma sicuramente già stiamo lavorando per il concerto di Natale Per due anni le edizioni del 2020-2021 non si sono fatte l'anno scorso abbiamo provato a ripartire con il concerto di Natale poi fino alla vigilia quasi dopo la domenica delle palme ancora eravamo in stato di emergenza e quindi diciamo questo ci imperiva un po' di fare una programmazione corretta una pianificazione delle attività Oggi la situazione sicuramente è cambiata quindi da lunedì, da venerdì sono state le elezioni da lunedì già ci siamo messi al lavoro per pianificare tutte le attività dell'associazione che ci porteranno fino poi alla domenica delle palme 2023 e il primo obiettivo è quello appunto del concerto di Natale Proseguono gli appuntamenti della settantesima stagione concertistica promossa dall'associazione Amici della Musica di Caltanissetta protagonista del quarto appuntamento il chitarrista Fabio Maida Il recital si terrà venerdì 21 alle ore 18 e 15 presso l'auditorium del liceo musicale Manzoni-Juvara di Caltanissetta con ingresso libero E adesso ci spostiamo a Delia, lavori all'anfiteatro, parla il sindaco Bancheri Non si ferma il lavoro dell'amministrazione comunale Gianvilippo Bancheri a Delia Dopo aver ottenuto un gospicuo finanziamento di 700 mila euro nei giorni scorsi per la manutenzione del campo sportivo comunale Carvello adesso nella cittadina nissena partiranno dei lavori di riqualificazione dell'anfiteatro di via Alessandro Pertini Un posto che dovrebbe essere di assoluto relax per i cittadini e che dunque ha bisogno di una seria manutenzione per renderlo maggiormente decoroso e fruibile L'intervento è stato concordato con l'ufficio comunale competente e dovrebbe riguardare la rimozione di zone pericolanti e delle palme ormai morte a causa del punteruolo rosso ma anche la sistemazione di vialetti distrutti dall'ingiviltà di qualche frequentatore Ci dice qualcosa in più lo stesso primo cittadino di Delia Gianvilippo Bancheri intervistate i nostri microfoni nella giornata di oggi Stiamo facendo alcuni lavori in economia per la riqualificazione delle ampiteatri di via Alessandro Pertini Si sta cercando di rendere questo spazio maggiormente decoroso perché è uno spazio che è frequentato soprattutto nelle ore serali dai giovani e quindi in economia con l'ufficio tecnico abbiamo fatto un progettino che permetterà di renderlo maggiormente decoroso e successivamente oltre a questi lavori faremo nello stesso spazio metteremo e collocaremo nello stesso spazio alcune panche provvederemo a illuminarlo e quindi andremo a rendere maggiormente attrattiva questa zona La missione dell'amministrazione popolare è quella che oltre a intercettare tutti i finanziamenti che ci vedono al primo posto in proporzione agli abitanti in tutta la Sicilia è quella appunto come dicevo di rendere maggiormente decoroso e bello sia il centro storico che gli spazi aggregativi Stiamo facendo tutto questo come stiamo facendo nel centro storico anche la riqualificazione dei cortili è una programmazione amministrativa che ci vede impegnati in tempo reale insieme agli uffici perché la nostra missione è quella di rendere sempre più orgogliosi i cittadini d'Italia dell'ambiente nel quale vivono C'è grande attesa per conoscere i nomi degli equipaggi che sabato 22 e domenica 23 ottobre si sfideranno nella ventesima edizione del rally di Caltanissetta e del Vallone ultima prova della Coppa Rally di Ottava Zona e del campionato siciliano per auto moderne storiche con coefficiente 1,5 sono circa 90 le decisioni pervenute ma a parte alcune indiscrezioni non ci sono certezze finché l'elenco non sarà approvato dalla federazione il rally raggiungerà Caltanissetta, Mussomeli, Milena e San Viaggio Platani sabato alle 17.30 la partenza è prevista da Corso Umberto altra partenza poi domenica 23 a Mussomeli con start da Viale Peppe Sorce alle ore 7 e 15 e adesso torniamo a parlare dello stadio Tomaselli i cittadini chiedono la riapertura dell'impianto sportivo Continua a non vedere una fine la questione dello stadio Tomaselli il braccio di ferro tra federazioni, squadre e amministrazione è continuo e si spera che a breve si possa trovare una soluzione nel frattempo anche altri sportivi come i podisti si sentono esclusi dalla questione perché non possono utilizzare la pista di atletica la pista di atletica non si può usare perché ancora ci sono dei lavori non so quanto tempo dureranno ma voglio dire hanno speso un sacco di soldi speravo che fosse risolutiva tutti i lavori che sono stati effettuati dentro lo stadio è ovvio che non possiamo che subirla questa cosa perché non c'è un'alternativa noi non possiamo fare niente possiamo solo appellarci in questo caso anche alle radio alle televisioni che ci potrebbero dare una mano siamo abbastanza amareggiati per quello che sta succedendo perché non sono solamente il rugby, il calcio ma anche quella dell'atletica che siamo penalizzati perché non ci possiamo allenare dentro il campo la sera dove è illuminato e siamo più tranquilli al di fuori del campo che ci sono le macchine che scorrazzano ed è molto pericoloso e c'è anche chi va oltre il problema stadio questa dovrebbe essere una zona sicuramente mantenuta meglio numero uno perché per arrivare qua lo sapete la strada è sempre piena, stretta e trafficata quindi bisognerebbe fare innanzitutto una ciclabile che parta da via Rochester e che scenda fino a qua dopodiché mantenere questo campo per esempio sempre aperto pulito, fruibile e via dicendo E adesso parliamo del calcio del turno infrasettimanale del girone I di serie D la prova della San Cataldese sul campo del Real Averse i verde maranto sono usciti sconfitti dal rettangolo di gioco al termine dei 90 minuti con un perentorio 4-0 la sesta battuta d'arresto in sette partite dall'inizio del campionato la San Cataldese è ultima con appena tre punti all'attivo insieme alla Mariglianese battuta in casa dal Castrovillari le reti del Real Aversa sono state messe a segno da Gassama autore di una doppietta nel primo tempo Petricciuolo a inizio ripresa e Cavallo nel finale i risultati delle partite della settima giornata disputate alle ore 15 Trapani-Lamezia 2-2, Licata-Sant'Agata 3-2 Santa Maria Cireale 1-0, Real Aversa-San Cataldese 4-0 San Luca-Cittanova 3-1 Mariglianese-Castrovillari 0-3 Vibonese-Paternò 3-4 e poi ancora posticipi Catania-Locri e Ragusa-Canicattì adesso vediamo la classifica Catania in testa con 18 punti poi Lamezia 16, Real Aversa 14 Vibonese 13, Ragusa 12 Santa Maria-Castrovillari 10 Santa Catale-Locri 9 Acireale-Trapani-Licata 8 Canicattì-Paternò 7 San Luca 6, Cittanova 4 Mariglianese-San Cataldese 3 Bene, era questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito Amici di Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di giovedì che vedrà sia ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia ma cominciano ad avvicinarsi al nostro paese questi sistemi nuvolosi atlantici associati a un profondo centro di bassa pressione presente appunto sul nord atlantico controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia con ampie zone di sereno ma qualche nuvola comincia ad affacciarsi sulle regioni settentrionali a partire dal nord ovest dove a fine giornata arriveranno anche le prime gocce d'acqua in effetti guardiamo la previsione delle precipitazioni sull'Italia per gran parte del giorno rimangono ancora lontane dal nostro paese però piano piano avanzano verso est quindi come vi dicevo a fine giornata prime gocce di pioggia sulle Alpi occidentali quindi in definitiva ci attendono giovedì ancora l'insegna del sole in tutta Italia alla fine del giorno tempo in peggioramento all'estremo nord ovest e poi vi anticipo venerdì arriveranno piogge più diffuse al nord ne abbiamo anche bisogno come temperature e valori molto miti massime localmente ancora oltre i 25 gradi per sapere comunque cosa accadrà appunto anche nelle giornate successive consultate l'app gratuita di Trevi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno Croce Verde Viale della Regione servizio notturno San Pio X via Napoleone Colaianni Viale della Regione Viale della Regione Viale della Regione practice